Pronto amore? Ehi, ciao! Come va? Bene, qui fa un freddo assurdo. Vabbè, poi lo sai che io sono freddolosa come un polaretto. Oh, la mia polarettina. Facciamo così. Accendo la stufa così ti arriva un po' di caldo, ok? Aspetta. Arriva. Ora sto meglio. Insomma, che hai fatto oggi? Il solito. Università, studio, sono distrutto. Però c'è una cosa che mi crea qualche problema. Che cosa? Che a me manca il mio amore quando ci vediamo. Ma ci vediamo troppo con i sogni, amore. Facciamo i sogni insieme stanotte? Le nostre caramelle. Me ne mandi una? Aspetta che te la lancio. Oh! Oh! Facciamo una cosa. Chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi e pensa alle stelle. Quante ne vedi? Due. Siamo io e te. Se ti senti sola, tu pensa alle nostre stelle. Ok? Sarà come essere vicini. Ti amo. Anch'io ti amo. Tanto, tanto. Senti, io sono distrutto. Andiamo a dormire. Ok. Però domani ci facciamo una chiacchierata più lunga, promesso? Non parliamo mai. Ok, promesso. Domani ci facciamo una telefonata super lunga. No. Quindi... Buonanotte, amore. Notte. Attacca tu. No, attacca tu. Dai, attacca tu. No, attacca tu. No, dai, attacca tu. Ok. Sarò costretto a fare io questo sporco lavoro. Buonanotte, amore. Aspetta, non... Mi sei imparlato Skype. No, aspetta, non va. Aspetta un attimo. Amore parlamaticale compare. Alla Per given di Grazie a tutti